allora innanzitutto vi saluto con il good morning e con il buon tutto e poi volevo dire ora per favore vi chiedo cortesemente di smetterla di darmi consigli spontanei senza conoscermi a fondo perché sono inutili inutili i consigli spontanei ecco quando propongo qualche lavoro online perché io non cerco i lavori sui gruppi di lavoro online cerco fuori casa non online online li propongo io e poi quando mi si chiede con quale sostenibilità sostiene un'azienda allora innanzitutto ho spiegato mille volte che avon e snap l'azienda di avon e snap quando te ti registri gratuitamente senza investire nulla di soldi per fare la collaboratrice loro la consulente cioè loro ti danno gratuitamente un link di uno shop tu ci metti solo su questo link di questo shop e lo modifichi come lo vuoi con quale nome lo vuoi finale ecco oppure ti danno un codice proprio loro persona il tuo personale che ci inviti le persone a cliccarci e a registrarsi sotto di te per fare gli ordini ecco oppure per essere su snap per esempio così funziona funziona che ci clicchi sul link che do io personale in tutti i video lo vedete di snap e praticamente tramite quello potete scegliere o di fare i distributori cioè collaboratori e consulenti di snap oppure i clienti ci sono due pulsanti da scegliere e vi registrate gratuitamente ecco in entrambe le cose l'unico l'unico investimento che vuole l'azienda che le persone che si registrano o come collaboratori possono fare un primo ordine e e loro come collaboratori oppure come clienti fare gli ordini e questo è il guadagno che che riceve da parte dell'azienda su ogni ordine anche per amore così è su ogni ordine riceve una soglia di soldi che tocca arrivare che avonne 10 euro e 50 euro per snap app